La Nissa trova la prima vittoria in campionato al Marco Tomaselli nella partita più importante della stagione battendo la capolista Scafatese in una gara ricca di golle ed emozioni. Doccia gelata dopo appena due minuti di gioco con la Scafatese che trova la rete del Bosnia con Markic brava di infilare Cassano. La Nissa trova il pari al 28esimo minuto. Azione dalla sinistra dove il pallone viene messo al centro dove Diaz si fa trovare pronto e infila in rete. La Scafatese non demorde e poco dopo ritorna in vantaggio. Tiro di Palmieri con la bella parata di Cassano, rinvio maldestro di un difensore biancoscudato con la palla che finisce sui piedi di Altobello che riporta i Canarini in avanti. Non c'è un attimo di sosta e dopo tre minuti la Nissa pareggia. Punizione dalla destra di Agnello e colpo di testa di Barrera che pareggia la gara. Dopo un primo tempo scoppiettante nella ripresa calano i ritmi nei primi 20 minuti con solo tiri dalle distanze. Alla mezz'ora la partita ritorna incandescente. La Nissa trova la rete del 3-2 con Diaz dopo una mischia in area dove l'attaccante argentino trova la sua seconda doppietta consecutiva al Tomaselli. La Nissa gestisce la gara ma a 5 minuti alla fine la Scafatese subisce un fallo in attacco e trova il calcio di rigore. Sul dischetto va il capocannoniere Foggia che calcia incredibilmente alto sulla traversa. Il Tomaselli diventa una bolgia e prima del fischio finale Samachesi invente il gol della domenica. L'attaccante si invola sul lungo traversone, batte in velocità il difensore bosniaco Marchici e batte Becchi per il poker biancoscudato. Grande festa in casa Nissa che trova la seconda vittoria in campionato e Morale dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.